Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Beh, se disponessi di una magia che mi dà solo due facoltà, quella di scegliere la Meloni o quella di scegliere Berlusconi, in questa magia e nella restrizione che ho indicato sceglierei Berlusconi, non avrei dubbi, perché Berlusconi aveva un suo modo di guardare intorno l'insieme delle cose e non di cercare continuamente l'insulto del nemico e soprattutto non era mai caduto nella bassezza della Meloni che ha indicato il nome dell'editore di Repubblica per vendicarsi di Repubblica. Repubblica da giornale aveva scritto un articolo non particolarmente effettuoso relativo alla Meloni. Meloni riteneva che questo chiamasse, credesse vendetta, come fa sempre lei, come dice la sorella che siamo assediate al punto da far saltare i nervi e Dio sa come sono fragili i nervi della sorella Meloni e speriamo che non siano così fragili quelli della Meloni stessa. Resta il fatto che l'idea di citare e portare in primo piano e su questioni di produzione e di industria, il proprietario della testata del giornale di cui si parla è un atto da un lato di estrema volgarità e dall'altro di tentativo di mettere in cattiva luce il più possibile, uno dei più importanti, forse il più importante imprenditore italiano.